Quest'oggi da grandi pasticceri abbiamo deciso di fare i cupcake, questi sono i cupcake al lampone e adesso li faremo, grazie al nostro magico libro delle ricette, alla nocciola e al cioccolato. Speriamo ci vengano, se non ci vengano mi uccido, ciao! Siamo ancora qui, ci è venuto a dare un supporto mia mamma, che lì c'è la crema ai lamponi. Allora, sono venuti bellissimi, questi sono le nocciole, questi sono con i lamponi e questi al cioccolato. Adesso stiamo preparando i diversi frosting. Finalmente abbiamo finito le nostre creazioni, guardate come sono venuti, questi al lampone, questi alla nocciola e questi al cioccolato. E ora siamo pronti per Bake Off Italia!